Spazio dello sportello del cittadino riservato all'ADOC Puglia. Quest'oggi abbiamo un ospite di eccezione, il presidente dell'ADOC regionale Pino Salomon. Con lui parleremo in generale delle attività dell'ADOC e in modo particolare di una iniziativa in formo assisto tutelo IAT. Sì, l'associazione dei consumatori dell'ADOC è un'associazione emanata a suo tempo nel lontano 88 dalla Will quindi di conseguenza è una costola della confederazione del sindacato Will il quale a suo tempo aveva immaginato che le questioni non si potevano risolvere solo all'interno della fabbrica ma dovevano essere anche risolte fuori dalla stessa fabbrica. Da qui lo slogan del sindacato dei cittadini è che noi abbiamo plagiato come l'ADOC il sindacato dei consumatori quindi questa nostra presenza sul territorio per tutelare i consumatori, gli utenti oltre che i cittadini. In questa fattispecie abbiamo anche il sostegno da parte del Ministero che ci sta finanziando questa campagna di informazione che state registrando, state vedendo in tv affinché chiaramente diamo ancora un supporto, un'aggiunta, un quid in più su argomenti di carattere specifico che l'associazione affronta giorno per giorno per mettere in condizioni i cittadini di preventivare sempre azioni che possono chiaramente non sconfinare in livelli in cui chiaramente il nostro intervento si possa verificare inutile quindi di conseguenza questa è un'attività che stiamo facendo e grazie alla Regione Puglia e al Ministero stiamo fornendo queste indicazioni con la speranza e anche la certezza che un minimo di consapevolezza in più la stiamo trasmettendo ai tutti i telespettatori.